Ciao a tutti, mi chiamo Elena e ho quasi 47 anni. Sono qui per rilasciare brevemente la mia testimonianza sull'utilizzo dei tau patch. Io sono felicissima perché qualche tempo fa mi è stata diagnosticata una patologia autoimmune che si chiama fibromialgia. Per chi non la conosce brevemente è una patologia che porta dolore in qualsiasi parte del corpo e ti porta a letto. Io ho fatto un sacco di settimane bloccata a letto e ho rischiato anche il mio posto di lavoro perché non riuscivo più a lavorare otto ore al giorno. Il dolore era atroce tutti i giorni, non riuscivo neanche a muovere le pupille degli occhi quindi potete immaginare questo tipo di patologia. Una patologia difficile da diagnosticare ma anche difficile da curare se non con antidolorifici, antinfiammatori, cortisone, miorilassanti e chi più ne ha più ne metta. Quindi è stato compromesso anche il mio intestino e altre parti del mio corpo. Ero arrivata al punto dove non ce la facevo più finché un giorno per puro caso ho conosciuto i tau patch tramite una mia amica. Non me lo sono fatta ripetere due volte. Ho detto io vado, li devo provare, tanto non ho nulla da perdere. Infatti non ho avuto nulla da perdere perché ho dovuto solo guadagnarci. Io è quasi due anni che porto questi dispositivi e sono finalmente tornata a vivere. Io sono tornata a camminare, a correre, piscina, faccio lunghi viaggi in moto con mio marito, faccio jumping, sono felice e faccio tutte le mie cose senza nessun problema. E soprattutto sono tornata al lavoro a pieno ritmo perché mi era stato concesso un part time ma non ero felice di questa cosa perché io volevo stare bene. La cosa più bella secondo me è stata il controllo in ospedale. È già il secondo che faccio a Verona dalla mia reumatologa dove mi seguono ed è il secondo controllo dove mi dicono cara signora lei ad oggi è asintomatica a questa patologia. Il merito è tutto dei tau patch. Io sono partita proprio con il modello base tau patch. La prima cosa che è scomparsa immediatamente nel giro di pochissimi giorni è stata l'emicrania che io ne soffrivo 24 ore su 24 però le crisi non erano passate. Io puntualmente finivo bloccata a letto ma la carissima dottoressa che mi segue la dottoressa Chiara Pennacchioni ha ben pensato di passare immediatamente ai FASIC e vi assicuro che piano piano nel giro di pochissimi mesi io sono uscita dal letto. Ripeto io è quasi due anni che porto questi dispositivi e non ho nessuna intenzione di farne a meno anche perché vengo veramente seguita in tutto per tutto perché con questi dispositivi mi stanno anche ripristinando quello che è il funzionamento del resto degli organi del mio corpo. Io sono finalmente felice ad oggi posso dichiarare di non assumere più nessun medicinale questa cosa è successa gradualmente naturalmente io non mi sono alzata una mattina dicendo butto tutto nel cestino è successo tutto automaticamente è passato il dolore quindi non ho più preso negli antinfiammatori e né i miei rilassanti e neanche gli antidolorifici. Io non dormivo la notte prendevo i sonniferi e scomparso l'utilizzo anche dei sonniferi. Io sono felice e posso solo ringraziare in primis il dottor Fabio Fontana che ha ideato questi meravigliosi dispositivi e ha dato la possibilità di riprendere in mano la nostra vita a tantissime persone e ringrazio tantissimo anche la dottoressa Chiara Pennacchioni che con la sua gentilezza la sua professionalità mi segue con cuore e mi hanno permesso di tornare veramente a vivere. Io ve lo consiglio vi consiglio di provare perché male non fanno sono felice grazie infinite spero che questo video possa essere di aiuto a qualcuno sia qualcuno con la fibromialgia ma qualcuno anche con altre patologie magari più importanti della mia. Vi auguro una buona vita a tutti e sono proprio felice grazie 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 ancora ciao ciao